Altra gioia esterna per il Nardò che in questo campionato sa solo vincere in trasferta 3 su 3 sin qui. Questa volta a farne le spese è il Costa d'Amalfi 2 a 0 per i Neretini allo stadio Novi di Angri. Le reti tutte nel primo tempo e proprio i primi 45 minuti regalano emozioni. Al decimo Munoz ha una palla buona in aria, tiro telefonato, para provitolo, portiere ex Nardò. Un minuto dopo ecco il vantaggio dei ragazzi di Mister De Sanzo. Tiro di prima intenzione di correnti, di pregevole fattura e 1 a 0. Dopo la rete subita si accende il Costa d'Amalfi, occasione al tredicesimo ma Maione calcia alto da ottima posizione su invito di massa. Al quindicesimo il diagonale di Martinelli si spegne sul fondo, non lontano dal palo. Alla mezz'ora sugli sviluppi di un corner Maione non trova lo specchio ma l'esterno della rete. Il Nardò si difende bene e a fine primo tempo torna ad attaccare. Al trentanovesimo occasione per i Neretini, piazza tutto solo, sbaglia, incredibile opportunità sciupata. Ma al quarantunesimo il Nardò trova comunque il raddoppio, piazza la mette in mezzo, sponda di Munoz. Gassama calcia forte e preciso, gol che vale il 2 a 0 per i pugliesi, punteggio con cui si va a riposo. Nella ripresa non succede quasi nulla, al sessantesimo fiammata del Costa d'Amalfi, cross tagliato al centro di Jovieno, non ci arriva nessuno e il pallone esce di poco. Poi al sessantacinquesimo Caputo sbuca in aria e calcia, De Luca si rifugia in angolo. Dallo stesso corner De Luca para agilmente un colpo di testa di Cappiello. Finisce qui con la vittoria del Nardò che sale a 10 punti in classifica agli stessi del Gravina a due lunghezze dalla zona playoff. Nel prossimo turno, domenica 20 ottobre, il Nardò ospiterà la Fidelisandria, partita che sarà trasmessa in diretta su Telesveva in sempre fuori per il calcio. Costa d'Amalfi impegnato a Brindisi.